Mi sto preparando ovviamente al meglio quello che penso io e cerco di riconfermarmi visto comunque l'anno passato che diciamo è andato bene anche le Olimpiadi, partecipazione al giro, anche in Belgio comunque sono riuscito a dire la mia e vediamo quest'anno di poter rimostrare quello che ho mostrato l'anno scorso e di migliorarmi ecco magari dando anche più spazio alla strada. Sì dai diciamo così comunque la pista mi ha regalato molto e non voglio non voglio metterla da parte ecco cioè non farla più, la pista è cresciuta con me quindi voglio continuare a farla però visto che non c'è più il discorso Olimpiadi nei prossimi due anni comunque cercare anche di dire la mia su strada. Sì ecco quel quartetto diciamo che appunto prima di essere un gruppo sportivo siamo un gruppo di amici e quel quartetto, le prossime Olimpiadi sono un sogno quindi ecco per questo la pista non la dimenticherò mai e mai la metterò da parte. No diciamo che a distanza di qualche mese c'è sempre più la grinta e la voglia di arrivare alle prossime Olimpiadi e poter dire la nostra perché quello che abbiamo fatto in tre giorni magari fa pensare che se le prepariamo meglio possiamo dire molto ma molto di più. Poi comunque è il primo anno che finalmente siamo arrivati ad alti livelli, siamo un bel gruppo, siamo giovani perché comunque io sono più vecchio, 24 anni quindi possiamo ancora dire molto fra quattro anni e da quell'agosto ho detto voglio arrivare a Tokyo e dire la mia ecco. No già diciamo che me l'aspettavo che comunque conciliare sia la stagione su strada e su pista non è molto facile anche soprattutto per lo sforzo che adesso stiamo facendo nel quartetto perché comunque è una prova che per fortuna adesso andiamo su tutti i quattro minuti quindi è molto breve ma tanto intensa e quindi come lavori è molto discostante ai lavori che facciamo su strada. Quindi conciliare il tutto è un po' difficile però finalmente quest'anno sono riuscito bene o male a gestirmi e ho detto la mia ecco che quest'anno visto quello che ho fatto l'anno scorso sempre a destra e a sinistra quindi strada e pista quest'anno invece voglio provare a far meglio su strada e mostrare ancora di più ecco. Sì 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 è impressionante ma al Giro d'Italia ho visto un altro ciclismo un'altra fatica tutto un altro mondo ecco che comunque quest'anno semmai ci sarà la possibilità vorrei portare a termine e dare il massimo di nuovo al prossimo giro ecco. No adesso siamo al primo ritiro conosco le prime gare però dobbiamo ancora definire bene comincerò a Dubai ecco quella sarà la prima gara poi devo vedere se ho la prima coppa del mondo per qualificarmi dopo ai mondiali e comunque adesso stiamo delineando tutto ci siamo trovati appunto a primo ritiro e da qui in poi decideremo e mese dopo mese anche se da la condizione con quella si può parlare ecco. Guarda per essere felice mi servirà un po' di caldo perché dopo queste giornate così fredde no diciamo non lo so per ora sta andando tutto bene per fortuna non ho avuto influenza almeno per ora quindi per ora procede però non posso neanche ancora dire come sto perché ovvio mi alleno da solo ecco primo ritiro ma comunque non posso neanche ancora sapere come sto e alla prima gara potrò vedere la condizione se sono indietro se sono avanti e da lì in poi comincerò a delineare e prepararmi meglio per cercare di affrontare le prossime gare al mio top ecco.